Amici e amiche di Vivi Casa Giove, siamo con Domenico Munciguerra, uno degli organizzatori della presentazione del seminario di oggi sulla comunicazione, che vede tra gli ospiti Paola Perego e Lucio Presta. Allora Domenico, da come ti è nata l'idea di questo seminario e di organizzare questo evento? Sì, in pratica l'idea è nata quando sono stato ospite recentemente alla prima puntata della nuova trasmissione di Paola, Domenica Inn, dopo aver visto il modo in cui lei lavorava, un modo del tutto umile, di una persona con tanta professionalità, mi è venuto in mente di parlare col professore e di proporre un seminario proprio sulla comunicazione televisiva in modo tale da portare anche ai miei colleghi l'esperienza di Paola, poterne parlare con lei dal vivo. Paola ha accettato subito e per questo quindi oggi siamo qui e siamo molto contenti di questo. Senti Domenico, il messaggio che tu vuoi lanciare ai tuoi colleghi partendo proprio da questo evento, e per te quanto è importante la comunicazione? Il messaggio che voglio lanciare ai miei colleghi è appunto che magari l'esperienza di Paola e Lucio che ci racconteranno quest'oggi, possa essere un monito per loro, quindi per chi vuole intraprendere questo tipo di professione, questo tipo di carriera, magari può davvero imparare tanto dalle parole che ci diranno oggi Paola e Lucio, e per me questo evento poi è particolarmente importante perché, come vi dicevo prima, in primis sono molto entusiasta del fatto che Paola abbia accettato subito il nostro invito, e poi perché credo che verranno fuori delle cose molto interessanti. Ringraziamo Domenico Munciguerra per averci concesso l'intervista, un saluto ai lettori di Vivi Casagiove. Un saluto a tutti i lettori di Vivi Casagiove, se siete ancora in tempo correte qua. Grazie per Vivi Casagiove dalla Sunne.